Siamo nella corte del palazzo pubblico comunale fatto costruire dal governo dei nove tra il 1297 e il 1310. Non si è badato a spese per decorarlo. I più grandi artisti dell'artesienese di quel periodo hanno lavorato qui. Simone Martini, Duccio da Boninsegna, Ambrogio Lorenzetti. Stiamo passando dalla sala di balia o dei priori. Gli affreschi sono dedicati al Papa Alessandro III. Spinello Rettino affresca la battaglia di Punta San Salvatore dove i veneziani appoggiati dal Papa si sono battuti vincendo contro i tedeschi di Federico Barbarossa e i suoi alleati. Siamo nella sala dei cardinali che precede la sala del concistoro dove si riuniva il governo senese sia nel periodo della Repubblica che sotto la dominazione fiorentina. Poi entriamo nella cappella del palazzo che conserva bellissimi stalli intagliate ed intarsiati della prima metà del Quattrocento. L'autore è Domenico di Nicolò. Sono di Teddeo di Bartolo gli affreschi che narrano la storia di Maria. Dormizio ed Assunzione si susseguono in questa parete. Teddeo di Bartolo opera nel 1407 sull'altare Sacra Famiglia San Leonardo dipinto del Sodoma del 1530. Con la sala del mappamondo entriamo nel rush finale. Una parete intera è occupata dalla maestà di Simone Martini, capolavoro degli anni giovanili dipinta tra il 1312 e il 1315. Passano un po' più di dieci anni e si vede che sulla parete opposta Simone Martini dipinge un cavaliere. È Guidoriccio da Fogliano, capitano senese. Si sta recando all'assedio di Montemassi. La vicina sala dei nove porta gli affreschi profani di Ambrogio Lorenzetti. Descrivono gli effetti del buono e del cattivo governo. Il buon governo deriva da un potere autorevole rappresentato al centro, affiancato dalle virtù e verso il quale guardano con fiducia i cittadini di Siena. Il buon governo si avvale della giustizia e manazione della sapienza divina che la sovrasta ai piedi alla concordia in grado di livellare le differenze. Manca dell'esercito per combattere e vincere i nemici. Gli si contrappone l'allegoria del cattivo governo. La tirannide è rappresentata da un con le corne e la giustizia. La vediamo in basso, in catene e dovunque in città e in campagna, morte e distruzione. Per il buon governo invece, una vera e propria fotografia di una città medievale, con le sue case, le sue torri, le sue mura che le separano dal contado. E dentro le mura affanciulle danzano, altri svolgono i compiti quotidiani. Fuori le mura vola in alto la sicurezza, una figura nuda ed alata che mostra un impiccato e sostiene un cartiglio. Sotto le sue protezioni si svolgono caccia e lavori agricoli.